È un momento difficilissimo per il Paese, ci vuole senso di responsabilità. Bisogna cambiare strada, perché è chiaro che la strada che si è imboccata non regge, non dà risposte al Paese. Io dico al Governo mettiamoci attorno a un tavolo rapidissimamente, chiariamo quali sono effettivamente le esigenze in relazione alla finanza pubblica e rispetto alle risorse che ci sono decidiamo quali investimenti per la crescita e quali politiche sociali per tenere la coesione sociale, di equità e di giustizia siamo in grado di fare. E insieme costruiamo un impianto che riguardi comuni, province e regioni. Credo che sia l'unico modo serio per affrontare una fase così difficile. Il resto, le battute demagogiche, per esempio sulla riforma istituzionale, la democrazia è un valore. Riformare le istituzioni indispensabili, ma per favore basta spot, basta battute, basta demagogia. I cittadini non accettano più questo modo di fare. Troviamoci, anche qui costruiamo un impianto serio di innovazione e di cambiamento che sia in grado di dare una governance, un governo moderno a questo Paese.